Emilia Clarke, i segreti di bellezza della regina dei draghi di Gott Il pubblico la conosce come Daenerys Targaryen, ma in realtà Emilia Clarke è molto più della regina dei draghi di Gott. L'attrice britannica è stata nominata come donna più sensuale del mondo da esquire, scalzando così i tipici canoni di bellezza a cui siamo tutti abituati. La Clarke è diversa da tutte le altre attrici, ma perché? Prima di tutto la sua fisicità è magra e minuta, non è proprio l'esempio di donna slanciata con altezze vertiginose, inoltre non è una bellezza che arriva diretta, ma ha una sensualità più sofisticata. Sicuramente il suo personaggio di Gott ha contribuito a creare su di lei un alone di mistero, ma la sua bellezza non si è affermata solo al personaggio di Daenerys Targaryen. Ecco quali sono i suoi segreti di bellezza per avere un corpo sempre al top della forma. Alimentazione sana e tanto sport. La ricetta di Emilia Clarke è semplice, basta seguire un'alimentazione sana e praticare tanta attività fisica. L'attrice ha dichiarato che per avere un corpo tonico e asciutto, non esiste un rimedio a breve termine, ma è necessario prepararsi con costanza e determinazione, seguendo programmi di allenamento prolungati. Anche in altri ruoli che ha interpretato, come ad esempio Sarah Connor nel film Terminator, Genesis, Emilia Clarke si è sottoposta ad allenamenti di cardio e rinforzo muscolare per diversi mesi. Ma quali sono le attività che predilige? Sicuramente kickboxing e combattimento, dando libero sfogo alla sua indole di regina dei draghi, ma non mancano anche alcuni workout con il sollevamento pesi per il potenziamento muscolare. L'attrice, quando deve interpretare un ruolo che le richieda una forma fisica impeccabile, conferma di fare sport ogni giorno e con lunghe sessioni di allenamento. Inoltre ha dichiarato di seguire un'alimentazione sana e regolare, come quella imposta dalla dieta Clean & Clean che lei stessa ha seguito. Questa dieta permette di ripulire l'organismo, eliminando le tossine attraverso un'alimentazione corretta, sono 5 i pasti giornalieri suggeriti, accompagnati da almeno 2 litri d'acqua. Emilia Clarke è un look sempre al top. Anche il makeup e l'airstile sono sempre impeccabili per la regina dei draghi, pelle chiara e luminosa, arricchita da una pennellata di blush, rossetto rosso, un filo di eyeliner e di mascara per rendere i suoi grandi occhi verdi più visibili. Emilia Clarke non ama truccarsi in modo eccessivo e grazie alla sua naturale bellezza in realtà, non ne ha nemmeno bisogno. I capelli? Il suo colore naturale è scuro con bellissimi capelli neri lisci, ma la Clarke si diverte anche a sfoggiare ogni tanto il biondo ghiaccio di Daenerys Targaryen, d'altronde i fan impazziscono per entrambi i look. Questo cambio di look repentino però deve essere fatto con grande attenzione, per non danneggiare la fibra dei capelli. Passare da un castano scuro a un biondo platino implica la decolorazione dei capelli con agenti chimici che possono rivelarsi aggressivi. E' necessario quindi affidarsi alle mani di un esperto e proseguire la cura dei capelli con prodotti di qualità, in modo da non renderli troppo secchi e sfibrati. Grazie per la visione!